e' come ciò che colo mi fai che mi dè picchia e non c'è che ho scuri a un rio un uomo uomo 3 al il 3 che delle come in combinazione ai cominciai, però in ogni aspetta a cui manca accorti nessuna qualità. Ma stai avuto un po' di mano, ma come un po' di una ripreso. Come ad ecco verso l'aerea. Mamma, mamma! Mamma, mamma! Fala, mamma, mamma! Adi su, mamma e buona! grazie E' mo' il memanicale Miha. Grazie a tutti. Grazie a tutti.